Tutto è come lasciai, volete dunque aprir voi stessa o legge? Ahimè, fermate e ascoltatemi un poco, mi credete capaci di mancare al suo film? Come mi piace, entro quel cabinetto chi vi chiuso vedrò? Sì, lo vedrete, ma uditemi tranquillo. Non è dunque Susanna? No, ma invece è un oggetto che ragion di sospetto non vi deve lasciare, per cui stasera una burla innocente di farsi disponeva, ed io vi giuro che l'onore, l'onestà... Sì, dunque dite, l'ucciderò. Sentite, non ho ancora... Parlate! È un fanciull... Un fanciull... Sì, che ropino! E mi farà il destino ritrovare questo paccio in ogni loco, come non è partito, scellerati, ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco il raggiro, onde ma verti il foglio? Sì, che ropino! Sì... 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 Sì...